Un saluto dal Tg della Mobilità. Venerdì 14 maggio all'auditorium di Via della Conciliazione sono in programma gli stati generali della natalità. Dalle 8 del mattino previste modifiche per la viabilità e per il trasporto pubblico. In particolare, sosta vietata in piazza Pia, in Via della Conciliazione da Largo Giovanni XXIII a Via della Transpontina, su Via della Transpontina da Via della Conciliazione a Borgo Sant'Angelo e a Borgo Sant'Angelo da Via della Transpontina a piazza Pia. Per quel che riguarda il trasporto pubblico, le linee 40 e 62 effettueranno la fermata di capolinea all'altezza dell'ospedale Santo Spirito, sul lungo Tevere in Sassia. Saranno disattivate inoltre le fermate di Via della Transpontina per le linee 23, 34 e 40 e di piazza Pia per le linee 23, 34, 40, 62 e 280. Aggiornamenti su romamobilità.it